14 minuti di lavoro per le braccia, tutto a corpo libero e con pause frequenti. Buon allenamento! Iniziamo con un breve riscaldamento. Circonduzione braccia in avanti. Movimento ampio e respira profondamente. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Ora circonduzione braccia indietro. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Ora distendi le braccia in avanti. Braccia e gomiti paralleli tra loro. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Braccia lungo ai fianchi. Destra su e sinistra giù. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Gomiti in apertura e mai in appoggio sulle spalle. Stendi le braccia e torni in posizione. 5, 4, 3, 2, 1, incrocio braccia. Braccia tese. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. Mani lunghi i fianchi e ruota le spalle in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, cambia. 5, 4, 3, 2, 1, indietro. Cambia verso. Respiri lunghi e rotazione fluida. 5, 4, 3, 2, 1, iniziamo. Posizioni in mezzo squat e pugni veloci. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. 5, 4, 3, 2, 1, ok. Pancia a terra. Disegna un cerchio con le braccia. Torna e sale con un push up. Movimenti controllati e addome contratto. La schiena è dritta. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per ripetere i pugni veloci. 3, 2, 1, via. Mezzo squat e pugni veloci. Accelera subito in movimento. Gomiti stretti e pugni lineari ad altezzamento. Adome sempre contratto. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per i push up con ginocchi a terra. 3, 2, 1, giù a terra e push up. Ginocchia ben appoggiate sul tappetino e piedi sollevati. Push up lento e preciso. Fuori l'aria quando sali. 5, 4, 3, 2, 1, sali in piedi. Preparati per i pugni incrociati. 3, 2, 1, pugni incrociato. Vai. Destro, sinistro, destro, sinistro. Ruota leggermente il bacino quando dai il pugno. 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e scendi a terra. 3, 2, 1, via. Push up con ginocchia e piedi appoggiati a terra. Mantieni la schiena dritta. Fuori l'aria durante la salita. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Sali in piedi. 3, 2, 1, ok. Braccia parallela a terra e gomiti a 90 gradi. Apri e chiudi. Movimento dinamico. Quando apri non andare oltre la linea delle spalle. 5, 4, 3, 2, 1, pausa. 20 secondi. Al termine riprenderemo con una variazione dell'esercizio appena fatto. 5, 4, 3, 2, 1, riprendiamo. Braccia parallela a terra e gomiti a 90 gradi. Apri, chiudi e spingi verso l'alto. Continua. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta in posizione. 3, 2, 1, vai. Ora spinte frontali. Continue e dinamiche. I gomiti sono ad altezza spalle. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per ripetere i pugni veloci. 3, 2, 1, mezzo squat e pugni veloci. Dai! Accelera subito il movimento. Gomiti stretti e pugni lineari all'altezzamento. 5, 4, 3, 2, 1, recupera. Preparati per i pugni incrociati. 3, 2, 1, pugni incrociato. Vai! Destro, sinistro, destro, sinistro. Ruota leggermente il bacino quando dai il pugno. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e scendi a terra. 3, 2, 1, ok, pancia a terra. Disegna un cerchio con le braccia. Torna e sali con un push-up. Movimento controllato e addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta pancia a terra. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta in posizione. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta pancia a terra. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta pancia a terra. 3, 2, 1, plank sui gomiti. Vai! 20 secondi. Avambracci paralleli tra loro. Le mani non si toccano. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e sale in piedi. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta pancia. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e resta pancia a terra. 5, 4, 3, 2, 1, recupera e sale in piedi. 5, 4, 3, 2, 1, ok, rotazione spalle indietro, pugni chiusi e fai delle rotazioni 5, 4, 3, 2, 1, cambia verso, ora in avanti rotazione fluida e senza scatti 5, 4, 3, 2, 1, ora incrocia le braccia, non andare veloce sciogli le tensioni 5, 4, 3, 2, 1, cambia, gomiti in apertura e mai in appoggio sulle spalle stendi le braccia e torna in posizione 5, 4, 3, 2, 1, cambio braccia lungo i fianchi, destra su e sinistra giù, poi cambi e continui movimento lento 5, 4, 3, 2, 1, cambio, ora distendi le braccia in avanti braccia e gomiti paralleli tra loro 5, 4, 3, 2, 1, cambia, ci conduzioni i bracci indietro cerca di fare un movimento ampio 5, 4, 3, 2, 1, ora avanti ultimi 20 secondi 5, 4, 3, 2, 1, ora avanti 5, 4, 3, 2, 1, il tuo allenamento è terminato 5, 4, 1, il tuo allenamento è terminato Grazie.